Deputata Luca Selli, passiamo alle interpellanze numero 2649 e numero 2682 del deputato Zanettin concernenti iniziative in relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel centro storico di Vicenza. Le interpellanze, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Chiedo al deputato Pierantonio Zanettin se intende illustrare le sue interpellanze. Intendo illustrare, Presidente. Perfetto. Prego, lei la parola. Grazie Presidente. Allora, intanto vorrei esprimere grande soddisfazione perché oggi a rispondere a queste mie due interpellanze è venuto il sottosegretario Variati, che è un vicentino doc come sottoscritto, ma soprattutto è stato per ben 15 anni primo cittadino di Vicenza. Con il sottosegretario Variati ci conosciamo da oltre 30 anni, ci lega reciproca stima, e quindi sono proprio curioso di avere con lui questo franco dibattito sul tema della nostra città. Onorevole sottosegretario, in questi due anni di legislatura, parlando con i nostri concittadini, credo che lo abbia fatto anche lei, forse anche più di me, ho raccolto una grande preoccupazione per l'ordine pubblico cittadino sempre più degradato. Fino a circa dieci anni fa, Vicenza era forse un'isola felice, centro storico un autentico salotto, indici di criminalità pressoché inesistenti, una donna o una ragazza potevano girare senza particolari patemi anche alle due di notte. Oggi, purtroppo, non è più così, e si è diffuso un preoccupante senso di insicurezza. Per questo, interpretando il mio ruolo di deputato eletto nel Collegio Uniminale di Vicenza, ho presentato tante, qualcuno dice anche troppe, interrogazioni ed interpellanze, segnalando il governo episodi di violenza, che reputo gravissimi, soprattutto perché non in linea con gli standard di civiltà e prosperità ai quali la nostra amata città era giustamente abituata. In questa legislatura, il governo già una volta è venuto a rispondere a una mia interpellanza in materia. Era il 7 maggio dell'anno scorso, e il suo sottosegretario Durigon, pure lui veneto di nome anche se non di fatto, aveva cercato, in certa misura, di circoscrivere la portata dell'aggressione subita quella volta dal giornalista Gonzato del giornale di Vicenza, sostenendo che comunque gli aggressori, tutti di origine estracomunitaria, erano stati identificati e uno di loro era stato anche risultato destinatario di una ordinanza di espulsione. Ecco, sottosegretario, a proposito, sarebbe interessante sapere se quella espulsione è stata davvero eseguita o, come tante, è rimasta un pezzo di carta. Il sottosegretario Durigon aveva concluso il proprio intervento annotando, con una certa soddisfazione, che nei primi due mesi del 2019 si era registrato nella nostra città un incoraggiante calo del 18% dei delitti commessi rispetto all'anno precedente. Ahimè! Non possiamo certo riconoscere al sottosegretario Durigon il carisma della profezia. Nei mesi seguenti hanno infatti avuto luogo nel territorio cittadino episodi di violenza gravi e taluni gravissimi, che almeno parzialmente ho fatto oggetto di ulteriori interrogazioni ed interpellanze. A due di queste interpellanze viene rispondere oggi lei. Queste due interpellanze, a cui viene rispondere, hanno per oggetto alcuni episodi, forse i meno gravi in assoluto, fra quelli da me segnalati, come i ride notturni ai danni delle autovetture, la morte di un tosso dipendente a Campo Marzio e l'aggressione a un minorenne in Galleria del Pozzo Rosso. Ha noto che invece il governo preferisce non rispondere alla mia interpellanza numero 360 dell'aprile 2019, in cui segnalavo che un operatore della Polizia Municipale era stato aggredito e morso da un nigeriano di 21 anni, tal Cletus Salomon, che si era rifiutato di fornire le proprie generalità. Per l'estrema violenza dell'aggressione, il vigile urbano aveva addirittura rischiato di perdere una falange della mano. Ha noto che il governo preferisce non rispondere alla interpellanza 783, presentata nello scorso mese di maggio, in cui segnalavo che un criminale di nazionalità tunisina, Rimi Mamid, di 31 anni, con numerosi precedenti penali per reati legati alla droga, senza dimora fissa, aveva aggredito sessualmente, in pieno centro e alle due del pomeriggio, una ventenne vicentina. Prima di essere immobilizzato, il sullodato Rimi opponeva resistenza ai carabinieri, sputando loro addosso. Per la giovane e il carabiniere è poi iniziato un ulteriore incubo, perché il mavilmente è risultato anche positivo all'HIV. Ha noto, infine, che il governo non viene a rispondere all'interpellanza numero 829 dello scorso mese di giugno, che ha per oggetto l'aggressione avvenuta in pieno centro al dottor Ulvec, ex sindaco della città e successore del sottosegretario Variati. Sono sicuro, per come la conosco, sottosegretario Variati, che anche lei è preoccupato per quanto sta accadendo nella nostra civile e operosa Vicenza e che è consapevole della gravità della situazione. Sono quindi curioso di ascoltare le sue risposte. Grazie.